Siamo davanti alla circonda reale di Pesaro qui a Villa Fastigi per il secondo appuntamento di questa giornata marchigiana dell'On. Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nonché è candidata alle prossime elezioni. Qui parlerà ai poliziotti sul tema della sicurezza e poi ci sposteremo nella sala della provincia sempre per un altro incontro pubblico. Un momento di solidarietà con chi opera all'interno delle carceri dalla parte delle forze dell'ordine con estrema difficoltà in un momento estremamente particolare questo. Quando la politica si avvicina alle carceri lo fa sempre per guardare le condizioni di vita dei detenuti. Ci si dimentica sempre delle condizioni di lavoro drammatiche di chi nelle carceri c'è non perché ha commesso un errore o un crimine, ma perché per lavorare. Le dotazioni sono inadeguate, gli stipendi sono inadeguati, gli organici sono assolutamente insufficienti e condizioni di sicurezza drammatiche. Da tempo seguiamo i problemi della polizia penitenziaria, da tempo diciamo che questo comparto ha bisogno di sostegno da parte della politica, ha bisogno soprattutto di risorse, ha bisogno di una politica carceraria completamente diversa, che sappia costruire nuove carceri di fronte al tema del sovraffollamento, che sappia risolvere il problema di carceri piene di immigrati quando gli immigrati secondo noi dovrebbero scontare la pena nel loro paese di origine. Anche questo si può fare, renderebbe molto più facile per i nostri agenti lavorare e poi ovviamente ripeto il tema degli stipendi, organici delle dotazioni, ai quali intendiamo destinare, come per gli altri uomini e le donne che operano in divisa, il 50% di quello che lo Stato raccoglie dai beni confiscati alla mafia. Sarebbe anche un segnale molto importante di meritocrazia, restituire agli uomini e alle donne in divisa quello che riescono a raccogliere combattendo il crimine. Giorgio Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nonché candidato premier, è qui a Pesaro per testimoniare davanti al carcere di Villa Fastigi una vicinanza a tutte le forze di polizia, ma in particolare anche a quelle che operano all'interno delle carceri. Ora da qui ci si sposterà, si andrà nella sala della provincia per un incontro pubblico dove verranno espressi i temi importanti della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Il fatto che questa immigrazione ha sulla mia società cambia e quindi sono fenomeni che vanno governati, altra cosa sono i profughi. E i profughi devi andare a aprire i centri per l'accoglienza in Africa, devi fare un accordo con i governi libici, una missione europea, fare un blocco navale. Onorevole, allora lei di recente ha dichiarato che le Marche sono l'esempio tangibile del fallimento del metodo Minniti, qui siamo proprio nel posto dove hanno candidato Minniti. Siamo nel posto dove hanno candidato Minniti, oggi però qui ci siamo noi e Minniti invece è la grande moschea di Roma a parlare con gli islamici e quindi ognuno ha le sue priorità. Noi siamo qui per parlare con i cittadini marchigiani, per raccontare come intendiamo garantire sicurezza, incontreremo tutti i sindacati dei corpi di polizia, tutti i sindacati degli uomini e delle donne in divisa, persone che vogliamo aiutare a lavorare in condizioni dignitose, con risorse che intendiamo reperire soprattutto dai proventi dei beni confiscati alla mafia, perché la sicurezza è uno strumento nelle mani dei più deboli, non dei più forti, perché senza sicurezza non c'è libertà e il lavoro che è stato fatto in questi anni dalla sinistra è un lavoro ridicolo, pensare che di fronte al problema del sovraffollamento carcerario invece di costruire nuove carceri si dovessero togliere i reati o le pene o la certezza della pena per noi è assolutamente intollerabile. Arrivano agenti a spot, prodomo elezioni, prodomo eventi, ma questo non assicura agli agenti di polizia, alle forze di polizia un costante presidio del territorio. Queste sono misure che sarebbero permanenti in un ipotetico futuro ideale? Assolutamente sì, noi parliamo per quello che riguarda le forze di polizia di aumentare gli organici di almeno 20.000 unità, di adeguare gli stipendi alla media delle nazioni dell'Europa occidentale, quindi delle nazioni simili alla nostra e di rendere le dotazioni adeguate e per quello che riguarda le norme in generale su sicurezza e certezza della pena noi siamo per dire basta agli automatismi degli sconti di pena, per noi non esistono sconti di pena automatici, per noi quando ti viene combinata una pena te la fai, se mancano le carceri si costruiscono nuove carceri, noi siamo disposti a dare il permesso di soggiorno solo a immigrati che vengono da nazioni che si impegnano a fargli scontare la pena in patria in caso di reato, ci sono una serie di cose serie che si possono fare per garantire che lo Stato c'è per la sicurezza dei cittadini e quando lo Stato non dovesse arrivare siamo anche per dire che la difesa è sempre legittima, perché se ti difendi da solo di fronte a un crimine hai fatto una cosa della quale lo Stato ti deve ringraziare e non per la quale lo Stato ti deve indagare. Immigrazione, sicurezza e naturalmente accoglienza sono temi che vanno a braccetto, qual è la vostra visione di questo complesso di azioni? La nostra visione è che la sinistra in questi anni ha giocato con il fuoco per fare gli interessi delle cooperative degli amici e per fare gli interessi della grande finanza, perché la grande finanza serviva a far entrare nel mercato del lavoro centinaia di migliaia di disperati per poi rivedere a ribasso i diritti di tutti i lavoratori, non c'è niente di solidale in quello che è stato fatto in questi anni. Per noi regole chiare, immigrazione e profughi sono due cose diverse, l'immigrazione deve essere e può essere solo regolare, in Italia non si entra illegalmente, punto. Se si devono alzare i muri si alzano i muri, se si devono fare i blocchi navali si devono scavare le trince, scaviamo le trince. In Italia non si entra illegalmente, si entra legalmente con una cosa che si chiama decreto flussi che è un documento con cui il governo decide quanti immigrati può ricomprendere per dargli una vita dignitosa e da dove li prende, perché non è irrilevante far entrare 500.000 islamici o magari 10.000 filippini cattolici a casa mia. Dopodiché per quello che riguarda i profughi vogliamo, continuiamo a proporre una missione europea con blocco navale a largo delle coste della Libia, impedire la partenza dei barconi, aprire in Africa gli hotspot per verificare chi eventualmente avesse diritto a essere il rifugiato politico e poi i rifugiati politici, che sono il 5% di quelli che arrivano da noi, li distribuiamo equamente negli ormai 27 paesi dell'AUE. D'altronde è una nazione come la Francia, Liberté, Galité, Fraternité e poi quando è stato il momento ha messo... Eh lo so, e loro sono così, i francesi, perché le altre nazioni fanno i loro interessi, ma anche perché è un po' folle quello che chiede l'Italia. Vede, noi non siamo l'unica nazione che deve gestire i confini esterni dell'Unione Europea, c'è la Spagna che tra l'altro ha un enclave in Africa, è molto più vicino all'Africa, c'è la Grecia, c'è tutto il confinense. Noi siamo solo gli unici che non governano quei confini, siamo gli unici che fanno entrare gli immigrati, siamo il buco nella rete. Gli altri invece governano quei confini, noi facciamo entrare 500.000 immigrati clandestini e poi diciamo agli altri ve li volete prendere anche voi? Lei che direbbe? Io direi di no, anch'io. Quindi sarebbe molto più serio andare in Europa e dire ok, ci aiutate a impedire che i barconi partano? E l'Europa su questo ci aiuterebbe. Quello che non è disposto a fare è, voi siete il buco e poi li volete distribuire con noi. Allora un altro tema estremamente caro a questo territorio per il quale Fratelli d'Italia si è battuta estremamente con i suoi esponenti locali è stato il fronte della sanità. Una visione completamente diversa da quella monocentrica, centratrice del PD, ma una sanità diffusa sul territorio che rispetti le esigenze dei posti dove i cittadini abitano e hanno bisogno di sicurezza sotto questo punto di vista. Assolutamente sì, qui la battaglia condotta dal sindaco Baldelli, sindaco di Pergola insieme ad altri sindaci, la firma del patto di piagge, sono tutte iniziative che noi abbiamo condiviso centralmente. È vero che si può operare un ridimensionamento della spesa della sanità, ma non la si fa sui presidi aperti sul territorio, lo si fa impedendo gli sprechi, lo si fa impedendo che una siringa da regione a regione costi dieci volte tanto e siccome ce ne sono di sprechi di questo tipo della sanità si comincia a tagliare da chi ruba, non si taglia sui servizi ai cittadini. Ci sono ospedali in territori che la sinistra può considerare inutili che rappresentano un luogo per salvare la vita delle persone, anche se salvi la vita di una persona vale la pena di tenere quel presidio aperto. Quindi si tagli da altre parti, ma noi siamo per una presenza delle strutture sanitarie assolutamente diffusa, soprattutto nei luoghi più piccoli e più difficili da raggiungere. L'ultima domanda me la consenta, in visione proprio di questa votazione così importante per l'Italia e per gli italiani, come facciamo a restituire un po' di amor di patria ai nostri cittadini? Guardi, non lo dica a me, io ormai definisco Fratelli d'Italia il movimento dei patrioti e tutti mi guardano come se fossi un marziano, fossi verde, avessi le antenne, perché da noi certi termini non sono esattamente di moda, però vede patriota non è necessariamente l'eroe del risorgimento, per me patriota è un imprenditore che non delocalizza, per me patrioti sono due ragazzi precari che mettono al mondo un bambino, per me patriota è la maestra che fa l'asilo, che fa il presepe quando arriva Natale all'asilo, per me patriota è il ragazzo fuorisede che poi torna nella sua terra ad aprire un'attività, patrioti sono tutti quelli che ci credono, tutti quelli che questa nazione la amano, quelli che non vogliono scappare, quelli che si arrabbiano quando diciamo che gli altri fuori sono sempre meglio di noi, che noi siamo pessimi, perché alla fine l'unica cosa che a noi manca veramente è l'orgoglio. Allora Baldelli, l'intervento di Giorgia Meloni, dell'Onorevole Meloni ha, se c'era bisogno, ancora più dato spinta, ancora più dato forza alla sua candidatura con concetti che sono sempre stati vostri in questi anni. Sì, Giorgia Meloni oggi ha ribadito come la scelta della mia candidatura sia per portare in Parlamento anche la nostra battaglia in difesa dei nostri ospedali, noi porteremo in Parlamento i principi del patto di piagge, il patto di piagge vuole difendere la sanità pubblica da chi la sta smattellando, come sta facendo la giunta Ceriscioli in favore della sanità privata, insieme a Ceriscioli, vari minardi, traversine e compagni, mentre noi vogliamo una sanità pubblica e una rete ospedaliera spalmata sul territorio, formata da ospedali di base e di primo livello che fungano da filtro agli ospedali di secondo livello e con le altre specializzazioni come devono essere gli ospedali di Pesaro oppure quelli di Ancona, ma vogliamo anche una rete dell'emergenza anch'essa presente su tutto il territorio perché i cittadini di Serra Sant'Abbondio, di Ostravetero, di Pian di Meleto devono avere lo stesso diritto di accedere al pronto soccorso così come lo hanno oggi nello stesso tempo, così come lo hanno oggi i cittadini di Pesaro e di Ancona. E poi c'è il problema dell'immigrazione, il problema della sicurezza delle nostre città e non per niente oggi insieme a Fratelli d'Italia erano presenti in un tavolo, insieme a Giorgia Meloni, tutte le rappresentanze di tutte le forze di polizia. Questo è il segno dell'attenzione di Fratelli d'Italia verso la sicurezza delle nostre città ma anche verso le forze di polizia, ma viceversa è anche l'attenzione delle forze di polizia e la stima delle forze di polizia nei confronti del programma di Fratelli d'Italia. Per questo noi abbiamo fatto delle proposte concrete, più uomini e più mezzi alle forze dell'ordine. Ai cittadini promettiamo che finalmente potranno esercitare il diritto alla legittima difesa perché un cittadino privato, un imprenditore o un commerciante devono avere la possibilità di difendersi all'interno delle loro abitazioni, dei loro esercizi commerciali e delle loro imprese. Poi una norma fondamentale per combattere questa immigrazione che deve essere assolutamente formata, questa immigrazione senza regole, senza controlli, gli immigrati che compieranno in Italia dei rati dovranno essere immediatamente espulsi e espiare le pene nel loro paese di origine. Per questo noi chiediamo più forza a Fratelli d'Italia. Votare Fratelli d'Italia è semplice, basta barrare il simbolo del partito perché i nomi dei candidati sono già stampati sulla scheda e soprattutto chiedo agli elettori di non farsi il retire dalle promesse del Partito Democratico che ha ridotto in questi termini la nostra nazione ma nemmeno da quelli di Alessia Morani, la candidata del PD in queste terre è che solamente qualche settimana fa sulla televisione chiedeva agli anziani di vendere le loro case alle banche per poter sopravvivere e non si devono fare il retire nemmeno dal Movimento 5 Stelle che oltre ad avere avuto problemi con dei bonifici fasulli sul tema immigrazione insieme al PD è l'altra faccia della stessa medaglia perché ricordiamolo tutti, il Movimento 5 Stelle è stato quel movimento che ha lottato per l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina il Movimento 5 Stelle è quel movimento, quel partito che oggi non vuole dare, concedere ai cittadini il diritto alla legittima difesa perché il Movimento 5 Stelle scrive nel suo programma che tutte le armi devono sparire all'interno delle case degli italiani quindi i criminali potranno continuare a fare i criminali e i cittadini saranno ancora oggi e ancora più indifesi di fronte a questa delinquenza sempre più forte e sempre più purtroppo incisiva in maniera negativa nel nostro Paese per questo date il vostro voto e dateci la forza di rappresentarvi all'interno del nostro Parlamento italiano Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.